Il futuro dell'edilizia. Oggi martedì 21 febbraio 2017 all'NH Hotel di Parma ha avuto luogo il convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Questa la tematica principale del convegno che ha visto la presenza di circa 300 professionisti tra architetti, geometri ed ingegneri. Presenti al convegno anche molte aziende del settore. Orman Italia è un'azienda leader a livello europeo nella produzione di portoni, porte e chiusure industriali. Orman ha puntato negli ultimi anni anche alle chiusure delle abitazioni con le porte ingresso. Presentiamo una linea di prodotto che vedete qui alle vostre spalle di porte in alluminio e in acciaio con dei valori acustici molto importanti. Esughiamo porte fino a un'attezza massima di 3 metri dunque è un'attezza molto importante. Riusciamo ad arrivare a un valore di 0,47 di valore termico e estetiche di tutti i gusti. Noi costruiamo comunque una porta che è RC4 dunque a livello anche di anti-infrazione un livello medio alto. Qui a Parma penso che con questa azienda sia la prima esperienza. La reputiamo al momento molto positiva perché comunque riusciamo a farci conoscere e a conoscere noi anche direttamente le persone della zona ed è un punto di partenza per poi costruire con i tecnici della zona progetti e situazioni di varia natura. Grazie.